Quando viaggio, io mi fermo sempre in Autogrill. Per la qualità dei prodotti, grazie, ma anche perché ho scoperto dove nascono. Nella Factory Food Designers, il centro di ricerca di Autogrill, dove gli esperti selezionano l'esclusiva miscela di caffè che ogni giorno bevono milioni di italiani. Studiano l'armonia perfetta fra lievitazione, cottura e farcitura per offrirvi ogni mattina curassan preparati al momento. Qui si ricercano le migliori materie prime per creare panini classici e legati al territorio. Si sperimentano collaborazioni con grandi chef, ma si rinnovano anche i piatti della tradizione, senza perdere di vista innovazione e benessere. E si studiano anche l'offerta e il design dei nuovi locali. È per questo e per la passione di migliaia di persone che ci lavorano ogni giorno che io mi fermo solo in Autogrill.